Eccoci qua con il capitano Perroni. Una partita un po' troppo pesante è arrivato il risultato. Una partita che sicuramente parla chiaro, è inutile nascondersi. Lo sappiamo che sono più forti di noi e hanno altri obiettivi, ma stasera siamo stati penso abbastanza imbarazzanti. Non abbiamo alibi, non è il campo, non è l'arbitro, perché con un risultato così passivo c'è solo da vergognarci di quello che abbiamo fatto stasera. Pensare solo a quello e come facciamo purtroppo da tanto tempo, ripartire dal lunedì e pensare solo a lavorare. Un po' troppo pesante insomma come critica. Sì, perché io oltre a guardare il risultato, lo dico anche ai ragazzi, non ho problemi, io oltre al risultato guardo soprattutto la prestazione. La prestazione stasera non c'è stata, non c'è stato l'atteggiamento, non c'è stato niente stasera. Anche quando abbiamo provato minimamente ad entrare in partita sul 5-2, poi non c'è stata comunque quella voglia che purtroppo non c'è contraddistinto neanche l'anno scorso. E poi purtroppo abbiamo visto tutti come è andato a finire. C'è da cambiare il registro, finché non cambieremo testa penso che usciremo da tante piste così. Sono autocritico ma lo dico anche ai ragazzi senza problemi. Tu sei un ragazzo che sempre dimostra una grande serietà. Insomma questa autocritica forte è un Sarzana che sicuramente avrà modo e tempo per riprendersi. Però ecco sei una squadra anche giovane insomma. Sì, sicuramente siamo una squadra giovane. Tanti di noi comunque ha un po' di anni che giocano in Serie 2. Quello che mi fa arrabbiare è l'atteggiamento. L'atteggiamento che abbiamo in pista tra di noi, con l'arbitro, con tutti. Da quello che penso che dobbiamo cambiare tra 1 e 10. Ci stiamo provando ma siamo duri di testa.